Eccomi! Ci sono anch'io in questa maratona di Natale e che faccio? Oggi coloro un pochino perché sono rimasta veramente colpita quando ho visto i babbo natali di Yupla, di questa nuova release di Natale. Ho già il pennello in mano, sono rimasta colpitissima e quindi ho detto, niente, li devo per forza colorare tutti, non posso non colorarli, guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. Quindi io che faccio oggi? Vi faccio vedere come colorare un pochino con... eccomi qua, mi metto un po' meglio, stavo andando troppo in là, guardate che belli che sono. Mi diverto un po' a colorarli con gli acquarelli, vi faccio vedere un po' come affrontarli, affrontare questo colore con gli acquarelli e ottenere così questi nostri bei babbo natali, super colorati e super allegri. Quindi io inizierei subito da lui, eccolo qua, che salta, è felice. E allora con gli acquarelli che faccio mi preparo un po' di colore, prendo questo bel rosso, poi sai babbo natale lo possiamo fare dei colori che vogliamo, certo rosso è rosso, però magari anche un po' più aranciato e possiamo un po' divertirci. Io solitamente mi preparo un po' di colore da una parte e su un cartoncino o un fogliettino chiaro vado a provare il colore prima di lavorare. Mi sto solo allontanando perché sto recuperando un cartoncino, eccolo qua, vedete vado a provare il colore e questo è quello che mi piace. Si possono colorare legnetti con gli acquarelli perché sono morbidi, sono assorbenti, per cui ci viene abbastanza bene come colorazione. La cosa importante è che magari non andiamo a lavorare con troppa acqua da subito e andiamo a lavorare possibilmente più su sovrapposizione. Quindi io bagno il pennello e inizio a lavorare sul cappello, quindi vado qua sul bordino, ecco qua, vedete bene, sì, e vado proprio a sciogliere il colore. Quindi abbasso un po' la pennellata, abbasso il pennello in realtà e cerco di rimanere all'interno dei miei bordi. Così, in questo modo. E seguo proprio tutto il disegno, molto tranquillamente. Nel frattempo il colore si sta assorbendo, quindi posso fare la tecnica classica dell'acquerello che è quella della sovrapposizione, della sfumatura. Quindi così non rischio di sbordare, di creare brutti effetti. Nel frattempo, che si asciuga un pochino, vado a lavorare anche nel vestitino. Ecco qua. In questo modo, scendo giù. Inizio sempre dalla parte dei bordini, in modo tale da poter avere il pennello più carico, laddove già sono sicura che avrò delle ombre. Lavoro molto con la punta, perché questi sono degli spazi un po' più piccolini. Quindi chiudo qua e vado ad avvicinarmi qua. E poi, ancora qui, prendo un po' sempre di colore, vado qua sotto. Se prendete troppo colore durante la lavorazione, scaricate il pennello. Ok. E qua ci siamo. E poi faccio anche qua. Aspetto giusto qualche istante che si asciughi. Dopodiché rincomincio da capo, nel senso che rincomincio qua. Essendo acquerello, già che io ci ripasso una seconda volta, avrò un effetto, vedete, già di ombra e di luce. Quindi io vado così, scarico subito il pennello in uno scottex e vado proprio a sfumare, a portarmi via il colore. Vedete che già si vede un po' proprio la sfumatura. E vado a continuare. Stessa cosa, qua sotto. Questo lo farò proprio un po' più intenso, un po' più scuro. E vado solo sotto la barba. Qua. E qua nella parte sotto. Scarico un po' il pennello e vado a sfumare. Qua proprio ci vado un po' più forte, forte. E qua lo stesso, un po' più forte. Anche in questo caso lascio un attimino un po' di tempo, ma nel frattempo che faccio? Mi preparo magari un colore leggermente più scuro, magari un violaceo, oppure magari leggermente sporcato di nero, per avere una sorta di intensità. Posso anche andare sul, su questo che era già un blu scuro. Vedete? Questo diciamo che è una buona ombra da crearmi per andare a fare ancora un po' più di ombre. Quindi vado proprio con la puntina, mi metto proprio qua. Sembra tanto scuro, ma adesso vi faccio vedere che non lo è. E vado proprio a sfumare e a portarmi via il colore. Quando vedete che sparisce il pennello è perché lo sto proprio pulendo. Ok? Vedete? Un po' qua e un po' qua. Una velatura. Praticamente stiamo lavorando a velatura. Guardate come il nastro Babbo Natale sta prendendo vita. Anche qua poco poco. E qua lo facciamo un pochino più scuro perché comunque c'è tanta barba Babbo Natale e quindi fa tanta ombra al vestito che ha sotto. Anche qua un pochino. E poi anche qua. Insomma ragazzi, dobbiamo divertirci. Vedete? Adesso andiamo a lavorare un po' sul viso e su tutti i particolari. Allora, intanto facciamo un po' che ci prendiamo un giallo ocra, diciamo un giallo primario. Sì, buonanotte non è un giallo primario, non è un giallo ocra, è un giallo di Napoli. E andiamo a crearci, giro proprio la mia palette. Andiamo ad unirlo a questa terra d'ombra bruciata. C'è anche un po' del rosso qua, che diciamo ci dà un color carne. Facciamo una prova. Va bene, lo possiamo anche fare più chiaro. E andiamo a lavorare sul volto. Che facciamo in questo modo? Vado proprio a colorarlo qua, così. Eccolo qua. Vado proprio a coprire. Il Pobre Natale è sempre un po' arrossato, perché comunque sta sempre al freddo. Mettiamo un altro pochino prima che asciughi. Così facciamo proprio una sfumatura qua sotto nell'attaccatura. Eccolo qua. E lasciamo proprio asciugare. Nel frattempo prendiamo un po' di nero. Mi rigiro la mia palette, così. Prendo un po' di nero. Mettiamo qua. Eccolo qua. Non so se lo vedete. Ecco qua. Me lo metto un po' qua. E vado a colorare. Sicuramente la bocca. Che dentro non si vede. Si vedrà solo la linguetta rossa. Piano, piano. Leggera, leggera. Con la punta del pennello. Eccolo qua. Poi andiamo a colorare la cinturina di Babbo Natale. Questa qua, così. In questo modo. Poi ripassiamo sempre un pochino. Qui, ad esempio, non c'è bisogno di dare ombre. Poi andiamo a colorarci le scarpe. Le scarpe vado proprio con il pennello un po' scarico di colore. In modo tale da poter avere poi dello spazio per raggiungere ombre. Tipo un po' qua sotto. E un po' qua sotto. Ora colorevo un po' la pellicciotta e vado a prendere sicuramente il nero ma anche un po' di grigio di Payne. Magari che è questo grigio leggermente azzurrino. Eccolo qua. Che magari mi aiuta un po' a creare. Ecco qua. Ho mescolato un po' due colori. A creare un po' l'effetto pellicciotta. Quindi vado proprio col pennello. Così. A scaricare. E poi asciugo. Vedete? Metto solo un pochino qua. In modo tale da avere proprio un effetto. E poi anche qua. Picchietto. Picchietto e basta. Vedete? La pelliccia non è regolare. Quindi la luce entra dentro i peletti. Ecco qua. Vedete? Scarico un po'. E poi vado a modellare ulteriormente. Altra pelliccetta ce l'abbiamo qua sotto. Quindi do un po' di ombre laterali. Così. Poi qua. E qua. E qua. Invece, per quanto riguarda la barba, preparo un po' di bruno di seppia. Così abbiamo sempre un effetto morbidoso, ma sulla barba e diamo un po' uno stacco, no? Quindi lo vado a preparare. Proprio un po', poco, pochissimo. E vado a picchiettare qua sotto. All'inizio sembra scuro, ma poi se lo vado a raccogliere un po' col pennello, vado a picchiettare così. Vedete che l'effetto è in un attimo creato anche qua. Noi appoggiamo il colore e poi lo andiamo a togliere in questo modo, picchiettando. Il gioco è quasi fatto, faccio anche i guantini, non so, faccio sicuramente la linguetta. Ah no, devo fare ancora le sopracciglia, è vero? E il nasino, lo facciamo un po' più rosso. Allora, il nasino utilizziamo il colore di prima. E facciamo così, un bel goccione. Che poi possiamo anche metterci un enamel dots. A fare il naso, un piccolo enamel dot. Ecco qua, sporchiamo leggermente con rosso. Così sembra un babbo natale che è un po' bevuto. No, però sai, è un po' rossino, anche qua un pochino di rossini. Così, mascheriamo un po' e poi un po' di ombre anche sotto qua, così si vedono di più le sopracciglione bianche. Ecco qua. Ok. Andiamo a sfumare. Anche qua un po' più di sfumatura. Una volta che si asciuga il colore, possiamo sempre ritornarci e andare a intensificare. Ovviamente possiamo anche utilizzare pastelli per intensificare di più, no? Magari per passare un pochino di più. Però, in linea di massima, questo può essere il mio babbo natale. Coloro solo queste che mi piacciono rossi, i guanti. Mi piacciono rossi. Li potrei fare anche neri, ma mi piacciono di più rossi. Eccolo qui. Immaginate, anzi adesso facciamo anche questo, no? Lo facciamo giallo, giallo oro, vediamo un po'. Eccolo qua. Wow. Eccolo qua. Guardate che carino. Immaginate tutti i babbo natale della confezione colorati e poi messi come magari abbellimento nel nostro albero di Natale, no? Bene, questa era una mia velocissima e piccola idea su come colorare in maniera veramente veloce. Anche quella alla maniera dell'ultimo minuto, questi fantastici legnetti di jupla, nello specifico la confezione di Viva Babbo Natale. Io ho pensato che mettendoci un'asolina qua, un nastrino incollato dietro, possono diventare delle bellissime decorazioni per il nostro albero di Natale. O anche dei graziosi e natalosi chiudipacco. Bene, vi auguro una bella maratona di questo Natale creativo. Vi abbraccio forte. Ciao. 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 Grazie a tutti.